Benvenuta nel forzo sanitario, per il terzo mondo di nuovo, oggi, ho fatto un'intervista di una grande felicità, molto strada, questo bisogno di verità, 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 di verità e di verità l'щеismo dell'azienda, di verità forse in questo momento, che non hanno grosse difficoltà, come vedete camminano un po' barcolanti, qualche problema sì, ma ringrazio Dio niente di grave.